Sono in 9 al via dopo il ritiro del numero 1 Vicario, 6 in prima fila, 3 in seconda, VerygoodSF al 2, al 3 ViburnoDeBeauty, al 4 VildownChuckSM, al 5 VanityBaby, 6 VoyageMoch, 7 Vis di Girifalco. In seconda fila 8 VuleVuFont, 9 Vulcanonal, 10 VentoOro. Eccola la macchina che gradualmente prende velocità, a parte piano VoyageMoch, lo stacco che avviene in questo istante, lungo la corda ViburnoDeBeauty dopo aver scavalcato Verygood che sbaglia, all'esterno attacca VanityBaby. Vanity che passa a condurre davanti a ViburnoDeBeauty, all'esterno Vis di Girifalco, nella scia di Vis Vulcanonal. Passaggio ai primi 200 metri in 14.8, ora si va al completamento del quarto iniziale che il leader completa in 29.9, sotto il pressing di Vis di Girifalco. Vis che attacca e sopravanza VanityBaby, 644.5, Vis di Girifalco in vantaggio all'esterno Vulcanonal in corda VanityBaby, all'esterno anche ViburnoDeBeauty, terza pariglia per VuleVuFont. Si va alla chiusura dei primi 800 metri che Vis di Girifalco completa in un minuto e cinque decimi, incalzata da Vulcanonal, i due in coppia su Vanity e Viburno. Vulcanonal che sopravanza Vis di Girifalco, sbaglia intanto VuleVuFont. Vulcano che copre il chilometro in 1.15, ora pressato da ViburnoDeButy in corda c'è Vis di Girifalco, poi VanityBaby sopravanza da VildownChuckSM400 per venire a casa con Vulcano al comando. All'esterno Viburno in corda c'è sempre Vis di Girifalco, chiusura della piegata conclusiva con Vulcano in vantaggio. Vis di Girifalco che ha ripreso un po' fiato seguendo lungo la corda e ora si ripropone all'attacco del battistrada, poi Viburno e Vildown. Vis di Girifalco attacca Vulcano, Vulcano cerca la difesa, Vis di Girifalco insiste all'esterno, le battute conclusive sul palo. Vis di Girifalco stampa Vulcano, al terzo Viburno, al quarto VildownChuckSM. 2.15, la media intorno all'1.16, il successo per Vis di Girifalco, Davide Di Stefano, Francesca Croce, i colori del signor Leonardo Cascio, la quota 2.75. Grazie. Grazie.